Immerso in un angolo di paradiso a pochi passi da barletta, agriturismo Villa Oliva per il vostro benessere naturale tra oliveti, frutteti, piscina, comfort e relax. Ristorante con cucina a vista per gustare prodotti di terra a chilometro zero, colti e mangiati direttamente dall'orto. Agriturismo Villa Oliva, a barletta, presso la strada dell'olio in via Minervino 200A.